How old are these kids that you usually recruit? 12, 13, dipende, sono tutta l'età. Vengono, ah, c'è chi lo vuole diventare che ne vada da noi, vengono loro. E noi valutiamo se può valere o anche no. Come fate a sapere che questa persona ha valore o no per il vostro lavoro? La gestione. Noi diciamo, vuoi ammazzare uno, se l'ammazza va bene, se non l'ammazza, l'ammazza il mio lavoro. Se lo vuole fare, noi non c'è nessuno per impedirlo, anche ti comoda l'amore. Ti devono sempre valutare se vuoi fare il camorrista. Devi farti valutare come una persona, intelligente, con progressi di vita che hai passato da piccolo. Devi stare al loro comandi. Se il camorrista mi chiederebbe di uccidere una persona, io lo farei. Perché se non lo uccidono, dopo li uccidono loro a te. Grazie. Grazie. Grazie.